Ciao a tutti amici di Sweet Domannesa, siamo tornati dalla Sicilia e ho deciso di seguire una piccola dieta per rimettermi un attimo in forma e la farò visto che sono ancora in ferie, costellata anche dalle serate, quindi durante le serate non potrò, ma almeno a pranzo vediamo di riuscirci questo ricettario era un vecchio ricettario di Bottega Verde, si chiamava 7 giorni di Bottega Verde con tutte ricette, guarda, anche lei mi dà il sostegno, con tutte ricette da usare con i cereali sì, ho capito, passa ok, allora, ora vediamo, qui ogni giorno avevo questo kit, ma ormai il kit è andato, nel senso che era di qualche anno fa ma il ricettario mi è rimasto, quindi l'importante è comprare i cereali, combinarli con le ricette e fare questa dieta io la potrò fare venerdì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e forse anche sabato dopo devo andare a cantare tre giorni a fila, però, e non sono neanche a casa però faremo anche il settimo giorno, anche se verrà su un'altra settimana e tanto il video lo monterò tutto insieme quindi faremo la dieta dei 7 giorni di Bottega Verde Dottoressa Ramona Alemi io l'ho fatta nel 2004 e ha funzionato l'ho rifatta nel 2012 l'ho rifatta nel 2017 è una dieta di 7 giorni, non si soffre la fame è un modo per integrare cereali nella nostra vita non è che perdiamo 70.000 chili però io 2 o 3 chili li ho persi ho fatto delle ricette buone, che si possono comunque fare quindi anche durante l'anno, quindi non è un problema specialmente ora che ci sono le verdure di stagione è una buona cosa da fare, insomma io ci provo e se volete ci provate con me, ok? un bacione io vi dirò solo i pranzi perché durante la cena io tra la musica e tutto non ci sono mai quindi solo 7 giorni di pranzi con Bottega Verde e magari la colazione, quello sì tanto la colazione sono semplici cereali latte o parzialmente schreonato o latte vegetale latte di mandorla, latte di soia insomma, il latte vegetale è questo e frutta secca se non vogliamo bere il latte vegetale allora possiamo abbinarci uno yogurt frutta secca e nello yogurt questi cereali ok? iniziamo devo aggiungere però una cosa che praticamente i pranzi che propone questa dieta di Bottega Verde sono fatti solo di cereali e la sera c'è anche il secondo io ho invertito praticamente ho fatto il pranzo con la scena di Bottega Verde con la scena del lunedì, del martedì, del mercoledì e l'ho integrato nel pranzo perché poi per scena o non ci sono o se ci sono faccio cose molto veloci quindi ho fatto un conto che fino a tardi sera ci sono anche a scena da sabato no quindi farò sabato il pranzo e poi dopo vediamo se posso riuscire a inventare qualcosa nel montaggio del video per far vedere anche quello che si potrebbe fare durante la scena comunque questo è tutto come pare a voi insomma io intanto vi suggerisco questi pranzi che però nel vero ricettario sono proposti a scena oggi iniziamo col primo giorno riso integrale, avena e grano 16 minuti di cottura questo e questo lo trovate alla Conad che sono il miglio, il grano saraceno e ci vogliono 20 minuti questo l'ho trovato sempre all'Eurospin il quarto giorno l'avena ci vuole una trentina di minuti 5 cereali e il farro sempre all'Eurospin 10 minuti questo qui l'ho trovato sempre alla Conad più ho preso questo la mattina ciocchi di avena che però io ho anche un altro muesli ok ce lo metterò non voglio buttare la roba che hai in casa ora voglio fare la dieta e seguire un po' la dieta proprio del sette giorni però voglio anche un attimino un attimino cercare di abbinarci anche altre cose però cercare di essere più in regola di prima ho deciso di non prendere il latte per me solo per il mio amore tanto noi beviamo quello senza lattosio ma per me mi sono presa questi che mi faranno compagnia per questa settimana fisto mani succo latte vegetale frutta secca 30 grammi e cereali 20 gli spuntini un frutto io oggi mangio la pesca poi mele, banane non c'è scritto che frutto quindi io mi mangio la pesca allora una piccola pregunta per il riso dunque ci vanno 75 grammi per uno a testa ma siccome nella ricetta di Bottega Verde era già precotto io adesso lo cuocio per una decina di minuti tanto il riso integrale comunque gli vuole e poi per altri 10 minuti cuocio la verza a listarelle poi va con un tritur di carota di cipolla e un cucchiaio di olio va sfumata con il vino bianco il sale e foglioline di timo e poi per secondo abbiamo il petto di pollo a fette ci vuole anche il brodo vegetale per fare il riso ma poi ci vuole il petto di pollo a fette lo cuocio nella padella o nella griglia e poi ci metto il limone meglio nella griglia ideale per la dieta e poi ho la portulaca come verdura che oggi è la prima volta che l'assaggiamo e se non piace metteremo dei pomodori ok? ci siamo? soffritto e il brodo vino bianco da ora comincio a mettere il brodo e faccio cuocere per altri 10 minuti sale per cena farò una pasta integrale con la feta e le olive verdi è proprio buono veramente buono sì primo giorno primo pranzo andato devo cuocere ancora il petto di pollo che poi prima ho salato con sale rosa dell'Himalaya e un po' di timo in polvere questo è il nostro pranzo questo non ve lo faccio vedere tanto è classico lo ho messo sulla griglia e è cotto e per merenda un frutto questo è dell'albero del mio vicino una pera insomma un frutto e dopo si cena più tardi una mela ciao ciao faccio tostare siccome oggi nel secondo giorno dovevo avere pesce azzurro acciughe sardine o sgombro ma ieri le sardine non le trovate e volevo farci comunque un tortino però ho trovato il pesce mi sono presa l'orata e ho invertito praticamente la giornata ora se li trovo giovedì mattina se vado al mercato trovo le sardine ci faccio il tortino e le metto nel quinto giorno oggi facciamo l'orata sulla teglia con gli aromi intanto lo cuocio per 15 minuti precotto e ora ho messo l'olio il sale il pepe e metto anche un po' di vino bianco sotto farò cuocere per 40 minuti in forno a 180 gradi sto rinnovando la padella che non mi ricordo neanche dove l'ho comprata ovviamente tutte le porzioni che faccio sono per 4 persone perché la dieta la facciamo tutti 4 ok e ora soffrigo queste allora manca la granella di nocciole per servirle apparecchio vi farò vedere la foto del pesce buono 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 mi piace sopra la granella di nocciole e l'olio a freddo ok pesce e pomodori e anche oggi il pranzo è andato siccome adesso vado via mi porto due piccoli pezzettini questa cioccolata bianca che sa anche dell'iquirizia che ho preso a modica non posso portare un frutto e voglio qualcosa che mi dà energia ho preso anche il magnesio e questo è un po' fuori dalla dieta però per seguire la dieta proprio per bene un frutto l'ho tostati e ora e lo faccio cuocere per 15 minuti gli do la precottura l'ho tostati l'ho tostati l'ho tostati siamo all'assaggio buono buono anche il terzo pranzo è andato per lo scontino un frutto questi sono pochini piccolini stiamo mangiando una due tre sei coscine limonaca puntino 300 grammi di orzo. Siccome ora vado al mercato con la mamma, preparo già l'orzo, lo faccio cuocere, tanto questo è già precotto, 10 minuti e lo preparo freddo, intanto preparo il testo, aglio, basilico della mamma, basilico greco, non puliamo, sono tornata dal mercato e ho saltato purtroppo lo spuntino, ma mi ha corrotto la Simona, la mia amica e i miei amici hanno mangiato due liquirizie, vabbè la liquirizia alza la pressione, fa caldo, va bene, diciamo così, prepariamo il pranzo, vai! L'orzo si è raffreddato, pomodorini freschi, continuo a tagliare anche quelli, anche il pesto e ora mischiamo tutto, ok? Allora questa è una ricetta fredda, buono, buono, questo sta di stivo, buonissimo, sono sicura che piacerà anche a Claudio. Ora adesso, due uova a testa e poi verdure e un frutto e anche il quarto pranzo è andato. Ok, la salsa non andrebbe bene, perché questa piace a Claudio, alla mamma, anche a me e al babbo parecchio, però io cercherò di non mangiarla, forse. Oggi lo sponge non si fa, un frutto! Cuocio per 20 minuti, perché l'aveno non è preconta. Mentre cuoce, io faccio un soffritto, per fare questa ricetta ci vogliono 80 grammi di zucca a testa. Io per fortuna ce l'avevo nel congelatore, quindi l'ho messa fuori a scongelare, ok? Però visto che al Gala e alla Conad ce l'hanno, ce l'hanno spesso, quindi anche fuori stagione dovremmo trovare la zucca. Ho aggiunto il brodo vegetale e ora faccio cuocere per 10 minuti. con le sardine, ora le pulisco e poi faccio il tortino. Mi vuole l'olio, il pangrattato, il sale fino, le nostre alice pulite e sfilettate messe con l'aceto bianco, prezzemolo e aglio. nella teglia, facciamo gli strati. Questo è il primo strato. Continuiamo con l'olio, prezzemolo e tutto quanto. Non so, forse ci verranno tre strati, spero. 25 minuti in forno a 180 gradi ed è pronto. Ho fatto tardi, allora l'ho fatto finire di cosa la mamma. Ho provato anche il rosmarrino. Buono! Perfetto. Ora vi faccio vedere l'alice e anche quinto pranzo è andato. Aspetta. Le alice cotte. Ma no, va bene così. Buoni. Ok. E dopo yoga io mi faccio un bel kiwi e un po' di magnesio. E dopo yoga va bene. Stasera purtroppo sono a cantare. No, per fortuna mi sono presa una pizza caprese. Andrebbe un po' fuori dagli schemi, ma va bene. Qui sono i miei coltelli. Così vanno su YouTube anche loro. E anche il quinto giorno è finito. Ciao! Ciao! Una melina. Espuntino piccolo piccolo. Grazie a tutti. Allora, come vi avevo detto, non ho potuto fare i giorni proprio precisi perché c'era il ferro agosto in mezzo, quindi stasera ci sarebbe la carne bianca o rossa, una porzione di verdure, 75 g di mix di cereali e noi invece mettiamo tutto per il pranzo. Visto che siamo molto molto pieni, mangeremo solamente la zuppa e quella che avanzerà, perché stavolta l'ho fatta per due, stasera mangeremo con la mozzarella e i pomodori. Quindi, pomodori a cubetti, un po' di timo in polvere. Allora, questo è cotto. Vado con l'assaggio, eh? Anche il sesto pranzo è andato. Vai! Mi faccio il pesco intero invece che il frutto una bella tazza di tè. Caldo. Paso altro! Grazie a tutti. 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 Vediamo un attimo se ha funzionato qualcosa. Sulla piastra le fettine. Anche oggi il frutto non mi va e ho fatto una tisana che fa bene, le cura. Sono arrivata alla fine dei sette giorni e il risultato è stato un chile e mezzo in meno. Purtroppo perché svariati giorni ho dovuto anche mangiare altre cose, però voi seguite la dieta come vi ho detto. E una cosa che vi voglio dire nella giornata con la zucca gialla, mettiamo la zucca normale che alla fine viene una cosa buona uguale. Io comunque ti saluto e se ti è piaciuto il video lasciami un like, iscriviti al canale senza iscritto e ringrazio la campanella. Buona dieta a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.